Oggi si presenta così il villaggio provvisorio di San Giuliano di Puglia. Dopo il rientro delle famiglie nel paese ricostruito, le casette sono ormai tutte chiuse, quasi a segnare una nuova fase per la comunità. Qui, proprio tra i fabbricati di legno, dovrebbero arrivare a breve le famiglie di profughi che fuggono da paesi in guerra e poverissimi. Vanno avanti infatti le procedure del progetto del governo destinato all'accoglienza dei migranti sul territorio e in particolare al villaggio, che potrebbe ospitare fino a mille persone, un numero superiore alla popolazione di un paese che si prepara così ad accogliere i profughi. Va benissimo, non c'è nessun problema, quindi è bene che vengano qua, portano un poco, magari va meglio l'economia del paese. A me non mi danno fastidio. Siamo favorevoli, anzi la vediamo come l'unica occasione per recuperare questo villaggio temporaneo qui che è ormai quasi distrutto, quindi può essere solo un'opportunità. Parliamo di persone e non di oggetti e soltanto per questo non posso che essere d'accordo. Credo che sia importante tutelare i diritti e i doveri di tutti, al di là delle differenze culturali e trovo fondamentale l'informazione alla popolazione circa il dovere che abbiamo di accogliere. Soltanto che bisogna distinguere se queste persone sono veramente dei profughi che non siano persone che scappano e sono dei delinquenti. Se sono bravi, ora siamo bravi. Sull'iniziativa ha frenato lo stesso sindaco Luigi Barbieri che pur offrendo la disponibilità del comune ha chiesto garanzie sul tipo di accoglienza, dunque famiglie con bambini e su numeri piccoli, ha fermato Barbieri, che non dovranno stravolgere la vita quotidiana di una comunità già segnata dalle conseguenze del terremoto. Però se viene come fa, se li mandano dal campo basso, dal governo noi non possiamo fare niente. Siamo favorevoli che ci potrebbe stare anche qualche posto di lavoro per noi giovani e qualcosina, speriamo che vada bene. Aiutare il prossimo è un, penso che San Giuliano dovrebbe dare l'esempio per quello che è stato dimostrato da tutto il mondo, da tutta l'Italia. Quindi penso che è una bella cosa. Dobbiamo restituire quello che abbiamo avuto, tutta la solidarietà che abbiamo avuto e quindi siamo favorevoli. Penso che possiamo fare una cosa carina per alcune persone che hanno bisogno, poi insomma si vedrà. L'importante è farlo in modo culato. Sì e no, dobbiamo dire. Perché? Quando lo Stato copre tutto quello che deve coprire salvaguarda anche il Paese, visto che comunque arriveranno più di mille profughi, come si dice, la popolazione non copre così tanti abitanti, un pochino c'è da preoccupazione, però vedremo. Dorenato, lei è il parroco di San Giuliano, in quale prospettiva vede l'arrivo dei profughi qui al villaggio? Personalmente positiva, una prospettiva di crescita, vedo una prospettiva di crescita. Da un punto di vista delle sensazioni da parte della popolazione penso che occorrerebbe una maggiore informazione e formazione.